Cinque o al massimo sei minuti, tanto è bastato per mettere a segno un colpo studiato nei minimi dettagli, che ha fruttato a una banda di malviventi un bottino che si aggira attorno ai 40.000 euro. È successo nella notte di Pasqua quando nelle mire dei banditi è finita la filiale Chianti Banca di Ambra nel comune di Buccine. Attorno alle tre e mezzo i ladri sono infatti entrati in azione, hanno scardinato l'inferriata, sfondato il vetro e ripelto poi la colonnina dello sportello Bancomat, fuggendo subito dopo il colpo. Il furto sarebbe stato messo a segno da una banda composta da almeno tre persone, arrivate sul posto con altre tanti mezzi, sembrerebbe due furgoni ed una macchina. Sull'episodio adesso stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. I militari in queste ore stanno lavorando sulle immagini delle telecamere presenti nella banca e nell'aria a caccia di elementi utili.